Intenzialmente vi viene detto che un po' si carica la gabbia e non è la scena. La gabbia si ha detto che è la gabbia, è la gabbia, è la gabbia che è la gabbia, è la gabbia che è la gabbia. se non c'è così via si lanciano direttamente si lanciano la gaffa e con altre cose la gaffa che porta in esibito e questo può essere un portale può essere un elemento e questo ovviamente a seconda di quello che possiamo fare utilizziamo anche delle cose per un tour del cielo possiamo utilizzare anche le stesse cose di gara anche da oggi perché sappiamo e non non si usano i i i i i i E in quel caso, i simboli liberi devono camminare per il più possibile, perché se ne fa il modo, quando hai la possibilità, c'è una buona regola che ci sia una testa per un giorno, cioè devono camminare per il più possibile. Quindi avete risposto a ciò che si fa, e poi mettiamo cinque cose su tutti. Quindi la cosa buona dovete guardare le cinque cose di circa l'opinale. Grazie. 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 quando vai a rinnovare la volta che fai il cibo sul cibo e tu la metta e vai con il passoletto allora è un po' di una donna esatto, e vi prendo un circuito chiuso e allora se tu hai visto da parte, richiame a te la casa richiame a te la casa, richiame a te la casa e a te la casa ok, allora è un cibo, perché questa è un po' che è dato, questa è un po' normale la prima parte è un cibo grazie, grazie questo qua, questo qua si è una roba che fai il cibo e incende il cibo, per il cibo si usa una roba abbastanza grande quindi non tanto perché prima lo stai preso perché in realtà ho attraverso un po' di movimento sulla realtà di una roba abbastanza grande ma è una roba abbastanza grande perché è l'unica roba che c'è in una roba quindi quando si libera, non riesce a ammortare la roba abbastanza grande soltanto perché non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio così, non lo faccio, perché non lo faccio, allora viene un po' di racconto il pezzo sarà aspettato sulla gaffia e sul pezzo e sarà fidanciato adesso è quello che stiamo facendo per cui non ti lavoro, non ti devo dire ma no, questa è soltanto una un'immustrazione che vi stiamo dicendo torniamo al discorso che facevo prima mandavo a parte di questo discorso, mandavo a parte di sotto o non lo chiede mandavo la froca e la scuola mandavo la carta in alto prima di arrivare a parte di questo discorso prima di arrivare a terra e il maggiore e il cubo che chiudeva con il sole latino arrivava al filo del quattro cento se io vediamo che il cubo era normale che succedesse c'erano delle leggere imperfezioni ad esempio c'erano tirare di più sulla costa che portavano in piccola c'era mi chiamavo nella carta sapevo che avessi scoperto che avessi scoperto che avessi scoperto quindi sapevo quale volta toccate mi chiamavo nella carta che mi chiamavo e si scoperte di contare a parte di questo discorso la visione è scoperto della carta non mi chiede non mi chiede non mi chiede non mi chiede e a quel punto andavo a volare o a tirare la caratteristiera che è inizia e da un secondo punto e poi ho rinnovato e non mi chiede e il pezzo si avviene e si è scoperto 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 erano stati mandati giù dalla soffitta delle corde di pesca che pescavano i bordini d'acciaio che intanto noi stavano preparati giù le gambe a questa casa e poi tagliate a misura e quindi ma non mi guarda noi abbiamo raccontato una altezza una gaffia e e e e ma non è ma non c'è sì 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 ma certo tanto per mostrare allora quindi ti riferisco alla mia città grande ma ti riferisco alla mia città grande ma ti riferisco alla mia città grande eh mi ricordi più ti note questo camminava in soffitta sulle orecchie apposta con la stranatura e poi mettiamo con i miei luciani e poi tanto questo spazio poi e quindi tanto questo e poi ovviamente si può fare le cose che vuole il gasciaio con la roccia in bassa e poi la gare viene portata dal campo in baldadurio un baldadurio alto come quelli lì il nostro è un po' più basso viene portata l'altezza scarica perché c'erano i pesi già in in baldadurio la gare si fai con il valimento del peso che tanto sta tranquillamente appoggiato a terra con i bordini a misura e i tiranti si carica la gabbia e a quel punto man mano si carica la gabbia in baldadurio che deve avere e il prezzo che bilancia in base a quanto è bilanciato e come si stacca regoli di grampi in modo da che che la gabbia te avrai che quando il peso starà ben bilanciato ci avrai anche la gabbia e una volta regolati tutti i tiranti fai fare il ciclo al carabone e lo devi a quel punto il contrapreso preparato con la gabbia in alto e in peso in basso perché ovviamente una volta che devi contrapresare un peso di 900p non te lo vai a portare su al bando ma e 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 ok quindi e e ok e 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 ok e 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 ok e 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